hai sai ben trovati di nuovo da morizio di stefano allora ragazzi vi sta piacendo il canale vi dirò la verità ho ricevuto diversi messaggi ovviamente su facebook dove vado un po spammare i miei link e molti messaggi anche in privato la cosa mi ha fatto molto piacere perché vuol dire che sto ottenendo un po quello che speravo cioè di stimolare l'interesse della gente nei confronti della cultura del karate ora tra tanti messaggi molti contenevano una richiesta ben precisa che oggi cercherò di cominciare un po ad accontentare perché se l'ultima volta abbiamo parlato dei numeri oggi andremo a curare un tema importantissimo l'abbigliamento marziale attenzione tutti portiamo il pigiamino bianco quando facciamo la nostra lezione di karate o anche di judo di akido di altre arti giapponesi come si chiama sento il coro di kimono no ragazzi no non si chiama kimono il kimono è un abbigliamento giapponese tradizionale una sorta di vestaglia che viene chiusa e che è lunga per tutto il corpo viene chiusa con una cinta e che un po potrebbe assomigliare alla giacca della nostra divisa di karate se i lembi inferiori ci arrivassero i piedi l'avrete vista in tante immagini ovviamente in giappone esistono tanti tipi di kimono cosa vuol dire kimono letteralmente chi viene dal verbo kiru che vuol dire indossare mono oggetto kimono oggetto da indossare ricordate che il giapponese è una lingua agglutinante quindi la nostra divisa di karate può essere definita kimono ma non è un kimono sto giocando con le parole vediamo perché intanto come lo chiamiamo la parola più giusta che e kogi che eco significa lezione ma attenzione letteralmente che eco significa che rispettare co lettura sino giapponese di furu furui vecchio antico rispettare le cose antiche cioè la tradizione keiko è il termine usato nelle arti giapponesi tradizionali per indicare appunto la lezione dell'arte tradizionale non solo quindi arti marziali potremmo volendo estenderlo all'arte della scrittura del bonsai tante cose diversa dalla lezione sui banchi di scuola che è chiamata invece giugio giugio è un termine che non posso utilizzare per karate perché indica un atto di apprendimento diciamo mentale scolastico e allora come si chiama l'abbigliamento che portiamo a lezione keiko lezione abbiamo detto che kimono è composto da ki più un mono chi è indossare keiko più ki la k posta dopo una parola che specifichi il valore di un'altra parola diventa g per quelle regole di pronuncia giapponese che già abbiamo visto ad esempio con ichi hon ippon quindi keiko ki diventa keiko ghi eccolo keiko ghi vuol dire abito per svolgere la lezione ovviamente la maggior parte dei praticanti all'estero ma anche in giappone parla di abito per il karate karate più ki diventa karate ghi attenzione quante volte abbiamo sentito dire karate ghi judo ghi no ragazzi ghi perché ghi più i si legge sempre ghi perché il verbo originale è kilu ki assume la pronuncia g e diventa ghi quindi guai a dire karate ghi non vi capisce nessuno in giappone ora molti diranno ma io una vita che lo chiamo karate ghi è bello mio è una vita che sbagli perché anche maestri sesto settimo ottavo dan se non parlano giapponese sbagliano le pronuncio non c'è nulla di male il maestro bravo però è quello che continua a studiare quindi se qualcuno fa obiezione e dove l'ha sentita questa cosa su youtube io l'ho sempre chiamato karate ghi abbiate il coraggio di dire maestro ti sta sbagliando il karate ghi so che è difficile vediamo ora le parti del karate ghi il karate ghi è composto di una giacca chiamata ua ghi ua vuol dire sopra da ue e ghi è sempre kilu ua ghi e i pantaloni zubon parola dalla etimologia incerta si scrive in katakana e ai tempi in cui studiare giapponese mi dissero che forse provene dall'olandese può darsi zubon indica il pantalone la cintura sicuramente lo sapete obi avete visto il film kuro obi cintura nera purtroppo in italiano non c'è cercato un po online qualcosa si trova quindi giacca ua ghi pantalone zubon cintura obi la giacca poi le maniche sode e ha un bavero eli ok in linea di massima queste parti sono sufficienti a dare le nomenclature principali del karate ghi poi si ci sono i lacci per chiuderlo può esserci l'elastico in vita o altri lacci ma insomma forse meno importante imparare queste parole se vi dicono levati la ua ghi vuol dire levati la giacca levati zubon a lezione non credo che si ma si sa mai veniamo a parlare di un altro aspetto se li discute tanto su internet di questo sotto il karate ghi vestiti o nudi beh insomma non pretendo che siamo proprio come mamma ci ha fatti ma c'è un mito in occidente per cui sotto il karate ghi la femmina debba mettere una t-shirt bianca e il maschio niente vi dirò la verità ma io tante volte in giappone specialmente ho visto gente indossare magliette anche nere come quella che ho io addosso sotto il karate ghi perché perché spesso ci si leva la giacca anche okinawa spesso ci togliamo la giacca per fare lezione è chiaro che una femmina debba coprirsi il seno per pudore ma esistono dei pratici top sportivi più larghi di un reggiseno che si possono usare tenendo la pancia scoperta il maschio beh ora okinawa è calda ma quando mi è capitato di praticare a tokyo ad esempio in un dojo di kyokushin o in uno di goju ryu quando praticavo goju ryu giapponese o beh ragazzi a dicembre gennaio febbraio a tokyo fa freddo e se mi dicono testiamo il sanchin levati la maglietta fa freddo testiamo il sanchin levati la giacca e tieni la maglietta si fa allo stesso modo anche proprio a okinawa dove fa caldo può capitare di vedere praticanti entrare nel dojo con i pantaloni del karate gi e una maglietta addosso non sempre bianca nessuno si sconvolge per questo credo che sia più una fisima di alcuni ambienti del karate più radicali di matrice giapponese in genere ma non fatevi troppi problemi se considerate che all'origine prima della introduzione del karate gi avvenuta lo sappiamo grazie a funakoshi gichin a okinawa si praticava in mutande tipo boxer o con il fundoshi l'antenato giapponese della mutanda una fascia che si avvolge intorno alla vita e alle pudenda e siccome faceva caldo nessuno si preoccupava di praticare in biancheria intima e le donne le donne karate non lo praticavano abbiamo poche testimonianze di donne praticanti diciamo che le donne hanno ricominciato a praticare karate sicuramente con la trasformazione del karate tradizionale nel karate moderno dopo la seconda guerra mondiale oggi ce ne sono tante ma una volta non era così quindi ricordate non kimono ma karate gi o meglio ancora che e kogi ok quindi potete tranquillamente dire mamma mi ha lavato che kogi proposito di questo la cintura come si ripone non va arrotolata come il cancellino di una lavagna va piegata in due e poi ancora in due se si arrotola cambia forma brutto il che kogi si stira boh anche qui ho sentito di tutto e di più stirare che kogi in linea di massima è considerato un po buffo almeno tra le persone che ho sentito io tra giappone okinawa tanto se lo stendete bene largo prendere aria è pesante prende la forma poi c'è pure chi stira calcini mutande con questo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video